E' importante però che anche la famiglia si prenda carico di questi problemi, se all'interno c'è una persona con questi problemi respiratori, la famiglia deve fare in modo di sollevare per esempio da compiti gravosi, sono cose che si vivono insieme, cioè in una famiglia se c'è un problema lo si vive, lo si affronta insieme e sta a tutti, insomma, non farlo pesare, no, no, io non, da questo punto di vista non ha particolarmente influito. La mia famiglia, no, mi è stata molto vicina, i miei figlioli mi sono sempre stati molto vicini, mi hanno detto mamma non ti preoccupare ci siamo qui noi, se hai bisogno vedrai che infatti mi sono subito preoccupati, mi hanno portato ai centri specializzati. Ma mia figlia a regola non, beh è logico che avrà dei pensieri, perché mi sente dalla voce quando non sto bene, non c'è bisogno, che io le volte quando so che lei mi deve telefonare mi metto lì bella tranquilla per non farmi accorgere. Grazie a tutti.